Da parte di Marisa, volevo chiedervi le carcasse che bruceranno per sempre, cosa sono? Se è il nostro corpo fisico, non resta qui nella terra quando moriamo? Grazie, un abbraccio grande, grande. Cioè, lei si riferisce ai corpi che muoiono, noi abbiamo studiato con le scritture che quando una persona muore, certo che il corpo va nel cimitero, però l'anima, se è stata fedele, va da Dio, se non è stata fedele, va in un luogo di attesa dove dopo il millennio sarà giudicata secondo le opere, perché non ha ricevuto Cristo, quindi sarà giudicata secondo le opere, Apocalisse 20, verso 11, e poi se non ha avuto sufficiente opere per essere salvata, va all'inferno dove sarà distrutta, cioè la seconda morte è la morte dell'anima. Abbiamo studiato che quello che brucia in eterno, come dice la Bibbia, sono le carcasse, è scritto in Isaia 66, non lo so. 66, 24. 66, 24. Parla delle carcasse che bruciano per sempre in eternità e il fuoco non si spegne. Sì, non è che dice, lì è ancora più preciso, dice i cadaveri. I cadaveri, sì. Quindi non sono le anime che bruciano. Dice cadavere è cadavere, l'anima viva non è un cadavere, quindi cosa brucia? Non è l'anima, è il cadavere. Adesso ho spiegato veloce veloce, però andate sulla pagina dei topici e studiate dettagliatamente con le scritture. Perché le anime non bruciano in eternità e muoiono? Come mai sono le carcasse e i cadaveri che bruciano? Ecco la domanda di Marisa che dice, ma quale carcasse, quali corpi bruciano? Non rimane qua? Abbiamo detto che i corpi che abbiamo vanno al cimitero e rimangono là. Ma infatti basta controllare, vai al cimitero. Scusa, ogni tot numero di anni devono aprire le tombe per fare spazio a nuovi cadaveri e tolgono le ossa. Quindi evidentemente rimane qua il cadavere. Quindi cosa brucia? Cosa brucia per eterno che il fuoco non si spegne? Quali cadaveri? Esatto, se il cadavere rimane qua, cosa brucia un cadavere per eternità? E allora? E allora dentro di noi abbiamo un essere spirituale, va bene? Che è di Dio o del diavolo, dipende. Anche la zizania hanno un corpo dentro. E quando alla morte questi qui, che si dice le anime, che poi è un corpo, vanno nell'ades, quelli che non sono di Dio. E vanno con il corpo, corpo spirituale che poi nel mondo dello spirito è tangibile, non è come adesso qui che non si vede, non si tocca. Ah, ok. Capito? Quindi è un corpo, è un corpo che va. Ed è questo corpo che è una carcassa spirituale, però tangibile, che brucia a bruciare per l'eternità. Ok, sì, perché se sarebbe il nostro corpo fisico di adesso si consumerebbe. Ma certo. Però quelli sono corpi spirituali che non si consumano, bruciano per sempre e non si consumano. Sì, perché Dio ha scelto così. Potrebbero anche bruciarsi. Dio ha detto no, lascia come il cespuglio di Mosè che bruciava e non si consumava. E hai detto che alla morte ognuno di noi ha un corpo spirituale, sia di Dio o del diavolo. E quindi anche quelli che sono in Cristo hanno un corpo spirituale non fisico, però che si vede? Assolutamente, tangibile, tangibilissimo. Questi corpi celesti con i quali vivremo per sempre nel regno di Dio. E' quello che i discepoli hanno visto alla trasfigurazione? Mosè ed Elia? No, no, Gesù non era ancora morto e risorto. No, Mosè ed Elia? Ah, Mosè ed Elia, sì, esatto. Sì, sì, proprio sì. Erano corpi spirituali? Sì, sì, questo mostra che non è quindi se mi dicevo e dicono loro che uno muore e va al cimitero a dormire. No, va con Gesù. Secondo Corinthians 5,8, essere assenti dal corpo vuol dire essere presenti con Cristo. Ok. E' collegato sempre alla domanda di Marisa, c'è la domanda di Laura. Aspetta che ti do una scrittura. Sì, dammi. A Marisa voglio dargli una scrittura. Sì. Cioè il Signore mi ha dato questa rivoluzione un giorno che è Esaia 66,24, che sono i cadaveri a bruciare. Va bene, non le anime. Ieri parlavo con te, il Signore mi ha dato un'altra scrittura molto potente. Comunque una cosa che ho ieri ho visto ancora più chiaro, va bene, è leggero Matteo 10,28. Questa è un'altra scrittura potente da copiare a Esaia 66,24. Voi fratelli che siete insegnanti, che ha insegnato le pecore, metteteli insieme queste due. Matteo 10,28. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Che qui è chiarissimo, dice che nella genna l'anima muore. Va bene, invece certe chiese insegnano l'anima vive per sempre e soffre. No, non c'è scritto. La carcassa morta viene tormentata. Si può tormentare una carcassa, è un modo di parlare. Va bene? Però cosa dice Gesù qua? Che Dio fa perire l'anima nella genna. L'anima muore, non c'è più, rimane la carcassa. D'accordo? Sì, sì, sì. Quindi è un'altra potente scrittura che le anime non vivono nella genna. Sì. Volevo leggerti la domanda di Laura. Dice, carissimi, ho ricevuto ieri questi versetti dal Signore. Ezechiele 39, 11 a 16. Che parla di Gog. Che Dio dice, io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele. La sarà sepolto Gog con tutta la sua moltitudine. Solo vado veloce. I cadaveri che saranno rimasti sul suolo del paese saranno sepoltri lì. Quindi parla chiaramente che in Israele sarà sepolto Gog, che sappiamo che è l'anticristo. Però Laura dice, sono rimasta perplessa, perché in Apocalisse 19, 20 e 21, dice che la bestia e il falso profeta saranno gettati vivi nella genna. Potete chiarirmi il passo di Ezechiele? Grazie per tutto che state facendo per l'opera del Signore. Vi seguo sempre e prego per voi. Un caldo abbraccio. Allora, tu di solito spieghi le domande. C'è spiegazione o passiamo alla risposta? Come mai in Ezechiele dice che Gog sarà sepoltro, cioè l'anticristo sarà sepoltro in Israele, e poi dice che l'Apocalisse sarà gettato vivo nella genna? Beh, praticamente è una continuazione a quello che ci chiedeva Marisa. Allora, è la stessa risposta più o meno va bene anche per te, nel senso che il cadavere di Gog, l'anticristo, rimane qua, seppellito come tutti i cadavri di tutti gli anticristi. Tutti gli anticristi che muoiono, Hitler, compagnia bella, i cadavri rimangono qui, Stalin, i cadavri sono qui e va bene. Quello che va nell'Hades, in attesa del giudizio della genna, quello che va nell'Hades è il corpo spirituale, va bene, che quando muore si sposta e va nel mondo dello spirito, o a destra, direzione, paradiso, o a sinistra, direzione, ades, diavolo, va bene, uno o l'altro. Quindi questi gozzi spirituali che escono, corpi salvati e non salvati, il corpo salvato è celeste, celestiale, benedetto, eccetera, va in cielo. Il corpo invece della zizzania, il corpo di quelli che non sono salvati, non è celestiale, è un corpo spirituale, sì, ma non c'è niente di interessante. Va bene, e quindi va nell'Hades. Allora, risposta Laura, quello che rimarrà in Israele di Gog che viene seppellito, dice qui, quel sepolcro chiuderà la via a Viandanti e lì sarà sepolto Gog, nel luogo chiamato Valle di Amon Gog, Zechiele 39, 11. Quindi dice, il corpo è qui perché dice che va nella genna. Vabbè, sappiamo che va, anzi non va nella genna, va direttamente nel lago di fuoco. Lo sappiamo in Apocalisse 19, 20, dice va direttamente nel lago di fuoco perché non ha bisogno di essere giudicato, perché lui è già un demone. E Laura che dice che va nella genna, però ha confuso. Sì, si è sbagliata. In realtà l'anticristo non va nella genna, ma insieme al falso profeta, cioè questo papo o un altro, insieme andranno nel lago di fuoco diretto, perché sono demoni, non vengono giudicati. E perché dice gettati vivi nel lago di fuoco? Perché l'anima è viva. Ah, ok. Capito? Le anime muoiono nel lago di fuoco. Abbiamo letto prima, è ugualissima scrittura, Matteo 10, 28, che Dio ha il potere di far perire corpo e anima nella genna. Ora corpo dice, questo corpo qui no, il corpo spirituale. Il corpo spirituale c'è dentro un'anima spirituale e muoiono nella genna. Quindi anche questo spiega il fatto che abbiamo un corpo spirituale. Certo. Gesù si riferisce al corpo spirituale, il corpo carnale è già morto. Pensavo anche a Samuele nel Vecchio Testamento, quando Saúl e la strega lo hanno chiamato dalla terra, è uscito Samuele, anche lui aveva un corpo spirituale, vero? Sì, 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 sì. Primo Samuele, 28. Ha detto Saúl o primo Samuele? O Samuele? Chi aveva un corpo spirituale? Samuele, vero? Samuele. Sì, sì, che era morto. Samuele aveva un corpo spirituale che veniva da una zona paradisiaca. Usciva dalla terra però, non veniva dal cielo. Sì. Perché Gesù non era ancora risorto, i santi, i spiriti, le anime dei santi stavano in un posto di pace, che non so esattamente dov'è, però Samuele usciva dalla terra. Quindi lì puoi interpretare come ti pare, magari dov'è resta un posto, d'accordo? Sì, sì, sì. Ok, ho capito. Magari il giardino dell'Eden, magari chi lo sa, un giorno ho pensato al giardino dell'Eden, quando Dio lo ha tolto di qui, magari l'ha messo in un posto, in questo pianeta, che lì è un posto bellissimo, paradisiaco, dove i santi che morivano nel Vecchio Testamento andavano lì. E da lì che sarebbe uscito Samuele, questa è un'opinione, non è una cosa dogmatica, d'accordo? Però non erano in cielo, perché quando Gesù, così era a Matteo 27, mi pare 52, e quando Gesù è risorto, i corpi dei santi, va bene, sono risorti anche loro. Quando Gesù è morto in croce è risorto. Grazie Gesù. Alleluia. Sì, credo è chiaro, possiamo fermarci qui, sì. Grazie a tutti.